Stamattina sveglia presto e giù dal letto per fare una bella doccia rigenerante. A mani basse uno dei metodi migliori per iniziare super carichi la giornata. E poi prima di mettermi ad asciugare i capelli mi sono vestita e ho scelto di indossare questo paio di jeans di Subdued e un maglioncino bucherellato di Abautio. Nel frattempo mi sono occupata del pranzo che in realtà mi aveva già preparato mamma prima di andare a lavoro. E la peperonata era veramente spaziale. Poi mi sono messa ad asciugare i capelli totalmente a caso perché non avevo tempo né di fare i capelli ricci né di fare la piega liscia. E ho risolto il tutto con questa treccia. Mi sono truccata un pochino, ho aggiunto le hug di mia sorella, il piumino di amore, la radiation di Prada e sono uscita quasi volando insieme a Holly perché dopo poco mi sarei dovuta a vedere in centro con un mio amico per prendere un caffè. Sono poi tornata a casa e ho studiato insieme a Paolino per tre orette e mezza, belle intense statistica, visto che abbiamo l'esame a breve. E poi mi sono rivestita per raggiungere insieme a Paolino su papà. E devo dire che abbiamo mangiato molto bene e passato un sacco di bel tempo insieme. Poi siamo tornati a casa verso l'una del mattino e ovviamente ho fatto skin care per rimuovere il make-up. E si è conclusa così la mia giornata. Io vi aspetto assolutissimamente sui G. Ciao!